Pausa caffè Buona domenica e buon caffè a tutti Oggi leggiamo una mail Sapete che ogni tanto in questa versione di Pausa caffè dell'estate Leggo delle mail e colgo l'occasione per leggere la mail Che mi ha inviato qualche tempo fa il buon Edoardo Del quale non faccio il cognome E ve la leggo Mi scrive Gentile Ingegner Cerroni Mi perdoni per il disturbo, sono iscritto al suo canale da molti anni E ho sempre seguito con piacere le sue lezioni Infatti ricordo questo nome e cognome Mi permetto di scriverle per avere un suo parere E magari qualche consiglio per affrontare la situazione Che a breve le presenterò Quindi mi lascia anche un po' Non mi spoilerà niente Mi lascia un po' di suspense Sono attualmente uno studente di Ingegneria Meccanica Al terzo anno di 22 anni Non mi scrivi dove però Forse non vuoi farti riconoscere Mi rivolgo a lei perché a settembre di quest'anno Andrò fuori corso e la situazione mi preoccupa molto Mi fa sentire particolarmente Inadeguato Sia per il mondo accademico che per il futuro mondo lavorativo Prima di scrivermi alla facoltà di Ingegneria Ho frequentato un istituto professionale di bassa lega Completamente inadeguato Per formare uno studente a un futuro percorso universitario Non avendo mai fatto fisica, chimica e matematica Quest'ultima trattata in maniera superficiale Ho trovato enormi difficoltà ad affrontare il primo anno E di conseguenza sono rimasto indietro Sono mesi che mi chiedo se valga la pena continuare O sto prendendo in giro me stesso Attualmente ho fatto analisi 1 Algebra lineare e geometria Chimica, fisica, disegno tecnico, metallurgia, informatica Scienza dei materiali E analisi 2 Capisce bene che non sono messo particolarmente bene Tuttavia ho intenzione di continuare e finire Sia perché mi piace come facoltà Ma anche per avere un futuro migliore E con maggiore possibilità di crescita Andare fuori corso mi spaventa E mi rende ansioso Mi vergogno molto della mia condizione E mi deprimo particolarmente A vedere compagni che proseguono serenamente E si costruiscono un futuro Con anni di anticipo rispetto a me Inoltre mi chiedo se la mia laurea avrà un qualche valore Tra parentesi punto a concludere Con la magistrale a 27 anni circa O se le aziende mi scatteranno immediatamente Appena vedranno che ho impiegato un po' più di tempo Del necessario Dalla sua esperienza è così? Una laurea in ingegneria conseguita fuori corso E di scarso valore? La ringrazio per il disturbo Firmato Edoardo E il cognome Che ho oscurato Informativa sulla privacy Eccoci tornati Allora cari ragazzi Intanto mi bebo il caffè Edoardo Se mi permetti Inizierei a scorporare questa lunga mail Nel dettaglio di Edoardo Intanto Edoardo Mi dico Intanto Edoardo ha i 22 anni Il fatto che tu ti sia già fatto un percorso Quindi All'età di Un'idea di laureati All'età di 27 anni Questo ti fa onore Quindi diciamo che Forse inconsciamente Non vuoi lasciare L'hai anche detto E giustamente Ti si è fatto già un percorso L'attenzione è che Non metterti magari Primo consiglio che ti do Personalmente Non metterti magari St'età di 27 anni Mi lavorerò a 27 anni I miei colleghi Saranno lavorati a 24 25 Sarò scartato Tutti questi pensieri Francamente Ha la tua età Così giovane Di 22 anni Io francamente Non li farei Non li farei Perché Sei al terz'anno Dunque Intanto una cosa importante Vi faccio notare Una cosa che appare Che si evince sempre Da queste mail La frase Ho frequentato Un istituto professionale Di bassa lega Di bassa lega È anche un luceo classico Un luceo scientifico oggi È tutto di bassa lega Sono di bassa lega I programmi Sono di bassa lega I docenti Che Adesso Offendo tutti Sono di bassa lega I docenti Gli insegnanti Che stanno là Mi dispiace Che ci sia qualcuno Anche che è un personaggio pubblico Di questo youtube Non mi riferisco Al professor Chettini Evidentemente Che è un bravissimo professore Ma la maggior parte Degli insegnanti A scuola Sono dei cani Ci può dire questo Vabbè Oggi lo dico Oggi riceverò Riceverò Non oggi Oggi è domenica Ma domani Riceverò una lettera La solita lettera Di fida Da parte Sono dei cani Sono dei cani Sono Cani il provveditore Cani il ministro Sono cani Sono cani I collaboratori del ministro Li ho visti lì A uno mattina A strappare la busta Per la maturità Sono tutti cani Che poi Cani Non è mica una offesa Amiamo così tanto i cani Però voglio dire Non è Diciamo Non è Di questa cosa Di bassa lega Di stu' professionale Di bassa lega Ma non è mica Solo tu Di bassa lega Di bassa lega È l'atteggiamento È il modo Che siamo Di fare le cose E questo è di bassa lega Perché Non ci sarebbero Le stu' professionale Di bassa lega Se fossero composti Da genitori Sotto studenti Figli Studenti Insegnanti Presidi Proveditori E così Salendo Fino al ministro Che fossero Di alta lega Non lo so Detto ciò Ti dico una cosa Dopo questa parentesi Nessuno Quando esce Dalla scuola Caro Eduardo Può dire Di essere Ultra preparato In matematica Fisica e chimica E chi dice di esserlo Non sa Cosa sta dicendo Perché Ce ne saranno Uno su cinquemila Di ragazzi Di studenti Che Finito L'istituto professionale Finito L'iceo classico Finito Lo scientifico Finito L'iceo linguistico Vanno Si iscrivono A la facoltà Di ingegneria Di quello che è E sono Diciamo Già preparati Cosa pretendi Eduardo Che tu vai Ti iscrivi A la facoltà Di ingegneria Vai Entri Segui questi corsi Tu cosa pretendevi Pretendevi che Loro ti facevano Il corso E tu sapevi già tutto E che carina razza Di corso Di facoltà Di ingegneria No Non mi riferisco A te Ma I ragazzi Pensano Che Finiscono La scuola Vanno All'università Stanno lì Magari Un po' Di Un po' Di chat Così Un po' Di instagram Un po' Di facebook Durante la lezione Quello parla Dice cose Che ho già sentito Ma ragazzi Ma sapete Chi ve la dà Questa mentalità La dà la scuola Si va All'università Si va Per imparare Ma non per imparare Per imparare A comportarsi Cioè per imparare A seguire Delle lezioni Si va Per imparare Anche Si va Per imparare Quello che I vostri genitori Dovrebbero insegnarvi Evidentemente Non vi insegnano Non i tuoi Edoardo Ma in generale Quello che i genitori Non insegna I propri figli È che Tu ti vuoi iscrivere Alla facoltà di ingegneria Quello che mi dice Il mio padre Tu ti vuoi iscrivere Alla facoltà di ingegneria Vada bene che Se ti iscrivi Alla facoltà di ingegneria Quando vai lì Non sei nessuno Quindi devi andare lì Per imparare A seguire le lezioni Cioè invece La gente È buon caffè Amaro Tiene oggi E lo rendo amaro io Con queste cose Amare Che sto dicendo Oggi la gente È convinta Che Si iscrive All'università Niente Sta lì a seguire Quattro cavolate Ma no Ci iscrive La facoltà di ingegneria Per imparare A vivere Perché la facoltà di ingegneria Nella facoltà di ingegneria Ti insegna a vivere Tu impari a vivere Ma ragazzi Volete capire Che ci si va all'università Per imparare a vivere Ma si va all'università Per come si va In panetteria Panetteria che faccio Vado e prendo Due rosette Tre micchette Quattro panini Me va a casa No Non è così Non è così Non è così ragazzi Non è così Cioè ci si iscrive I ragazzi I ragazzi Vivono in un mondo Oggi Che Pensano che Iscrivere sull'università Sia un gioco Non è un gioco Non è una cosa Non è Ci si va Per imparare A vivere A studiare Come si può pretendere Di arrivare lì Già Voi mi direte Sì ma poi però Pretendano che noi Siamo già pronti Per il lavoro Subito dopo Dopo 4-5 anni Ma Quegli anni Quegli anni Di praticantato Dove ti insegnano Io Io Personalmente Tu mi fai l'esempio Io Le cose Le imparate lì Cioè Prima Non ho imparato un cavolo Poi Mi scrivi Capisce che non sono messo Particolarmente bene Ma neanche particolarmente male Però L'ho messo peggio io Allora scusa Cioè Questa me Che caro adorato Sai cosa si vince Si vince Intanto che tu ti preoccupi Si vince intanto E questo mi fa piacere Vedere che tu ti preoccupi Della tua situazione Ma sei molto severo Però Molto Questo I ragazzi di oggi Ma anche i genitori Sarà anche Sarà anche il fatto Che siamo Sarà anche quello che sentiamo Siamo molto severi Con noi stessi Questo non vuol dire Che si debba essere superficiali Ma essere troppo severi Vuol dire che Non è che hai dato 4 esami In 3 anni Sì È vero che entrerai Adesso Entrerai fuori corso Va bene Però Tieni presente che Non sei messo così male Un po' di esami legati Ne mancano tanti Ho capito Infatti ti sei dato Altri 5 anni di tempo Tuttavia Io credo che tu Non sia messo così male Questa è la mia Credo che questa mail Deba essere incorniciata Proprio per dipingere Per delineare La situazione Di questo mondo Di oggi Dove ci sono i ragazzi Che non accettano Nemmeno Un po' di ritardo Un po' di Bello perché io Per esempio Sono uno che sono puntuale E la gente Non viene mai puntuale Quindi Però i ragazzi I ragazzi Se questa mail Se dice che i ragazzi Sembra quasi che Un'imminima difficoltà Un'imminima Se il problema Esaminiamo il problema Ci può essere un problema Certo Tu dici I miei colleghi Vanno avanti E io rimango indietro Sì ma bisogna vedere Come però Perché poi bisogna vedere Tu come Mi vergogno Delle mie condizioni Beh vergogna La vergogna Ma Di che ti vergogni Edoardo Qui c'è gente Che va avanti Non si vergogna di niente Ti vergogni Ma scusa Dai Ma vergogna di cosa Le vergogne Le vergogne Sono Le vergogne Le vergogne Sono Sono altro E qui ce n'è tanta Di vergogna Se dovessi elencare Qualcuno mi dice Ma come ti permette Se dovessi elencare Le vergogne vere Le vergogne vere Le vergogne vere Sono altre Le vergogne vere La rimanere con gli occhi Strabuzzati così Per un'ora consecutiva Le vergogne Vergogna per cosa Mi rende ansioso Devi stare calmo Bisogna straccarmi Te lo dico io Che in questo momento Non ti nascondo Non vivo una situazione facile Anch'io Nessuno vive una situazione facile In questo momento Per una serie di ragioni Infatti personali Non bisogna staccarmi Bisogna svegliarsi la mattina Ogni giorno E dire Mi rimboco le maniche E vado avanti Non ci possono essere I peiodi sempre La vita non può essere Tutta quanta Rosa e fiori Sempre e comunque Si scrive alla facoltà Di ingegneria peraltro Si frequenta cose Si frequentano Si studiano argomenti Discipline difficili E uno Niente Dritto Solamente perché c'è qualcuno E' come quello che dice Caspita Lo dico io Quanto guadagna Mannaggia Quanti soldi che c'ha Io non c'ho Non c'ho soldi nemmeno per piangere E invidia l'altro Ognuno c'è la sua situazione Tu non sei messo così male C'è gente che sta peggio Tu dirai E' un po' Una consolazione Un po' del disperato Sì però Non credo che laurearsi 27 anni Significhi che le aziende Ti scarteranno immediatamente Intanto Intanto laureati Qualcuno avrebbe detto Intanto ti laurei Discuti la tesi Decidi poi E nell'anno in cui magari Nell'anno in cui Ti stai laureando Cominci a guardarti attorno Adesso farei un tirocino Farei un praticantato E vedi un attimo Se non è un'azienda Magari è uno studio Chi ti scarpa Ti scarpa nessuno Le aziende capiscono niente Le aziende Non le capiscono niente Le aziende ti scarpa La gente La gente Edoardo Sai quanta gente superficiale C'è a capo delle aziende Oggi Non tutti Però Sai quanta gente c'è Io ho a che fare con gente Che Pensa di sapere Non sa niente Quanti elettricisti Che non sanno niente Quanti Quanti periti Non sa La gente pensa di sapere Non sa niente magari La gente pensa di sapere Non sa niente Quindi Non te la fare così Non ti fare così Sangue amaro Dalla mia esperienza Non è così La mia esperienza La mia esperienza Mi ha insegnato a Nel mio lavoro Nel lavoro Pensa Guarda Concludo Io faccio il lavoro Che è il più difficile del mondo Perché io non faccio solo ingegneri Faccio ingegneri Libro professionista Che vuol dire praticamente Caro Edoardo Vuol dire Come avere una barca Una barchetta Non so se siete appassionati di Se siete appassionati di Di mare Una barchetta E Avere un remo Due reni Un remo E stare in mezzo All'oceano Con una barchetta Che significa? Che significa morire Praticamente Uno continuo Andare avanti Ho fatto questo esempio Per non fare un altro esempio Per non fare l'esempio Del mare Di un'altra cosa Però Ecco Fare l'ingegneri Libro professionista Come me Ogni volta che tu Pensi All'essere scattato All'ansia Pensa a me Ma tu pensi Che io vivi in una situazione Facile ogni giorno Io ogni giorno Io come tanti ingegneri Libro professionisti Sai a quante cose Dobbiamo pensare? Tante Però uno va avanti Ha una famiglia Cerca 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 di fare in modo Che tutto vada bene Così devi fare tu Certo che uno poi Le speranze Non devono mai Non devono mai passare Uno la speranza La deve sempre avere E così devi essere tu Sei molto giovane Hai la vita davanti a te Non ti fare questi pensieri E chi te li dice? I tuoi genitori Qualche parente Qualche amico Non sa niente Non sa di quello Di cui sta a parlare Non lo sa Sul seno non lo sa Non lo sa anche perché Tu non sai quello che farai A 27 anni Se davvero ti lavorerà a 27 anni O 28, 29 O 26 Non lo sai Quindi adesso Quello che devi fare è Trattare ogni esame Punto per punto Continuare a seguire E andare avanti Anche se sei fuori corso Che può rappresentare Magari qualcosa di fastidioso Ma andare avanti Questo ti posso consigliare Oggi in questa domenica Dove sono particolarmente Particolarmente polemico Nessun disturbo Edoardo Cari ragazzi Ci vediamo domenica prossima Continuate a scrivermi Le mail E state su Tenete duro Perché la vita La vita è brutta Per certi versi Ma è bellissima Perché riserva sorprese Ogni giorno Negative Ultra positive Ultra negative Seminegative Semidefinita positiva E tutto La vita è tutto Quindi State forti Perché L'importante è Stare a galla E Sperare sempre qualcosa di meglio Che può sicuramente Succedere Quindi Grande ottimismo E ci vediamo Domenica prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti